Bella a tutti ragazzi, si tratta di questo nuovo video, oggi siamo qui in un video richiesto da tanti anni, perché non lo faccio da anni, ovvero il video sul mio armadietto Prima di iniziare iscrivetevi al canale, tutte le campanelle, lasciate un bel mi piace, condividete il video con i nostri amici e nei commenti iscrivetevi quante skin avete Una volta, proprio ai tempi, 2020-2021, facevo questo video tipo una volta ogni sei mesi, poi ho smesso, ho detto basta, non lo faccio più Io non faccio un video sul mio armadietto ragazzi da tipo due anni e mezzo circa ragazzi, da veramente tanto, si da due anni, si due netti e mezzo ormai, quasi tre Che non faccio un video del genere, direi che è arrivato il momento di aggiornare l'armadietto ragazzi, quindi oggi siamo qua per vedere tutte le mie skin Piccolo spoiler, 426 skin, le andiamo a vedere tutte, ovviamente qua sono filtrate con predefinito, non so in cosa, in base a come sono messe, vabbè Andremo veloci, vi soffermerò solo su alcune, per esempio Rubino Ombra ragazzi, una skin iconica per chi mi segue dai tempi d'oro Abbiamo le skin dello scorso Pass Battaglia, abbiamo tante skin comunque interessanti, per esempio anche Starfire Ora non mi ricordo che skin vi avevo fatto vedere nell'ultimo video, sicuramente non quelle del capitolo 4 e 5 sicuramente Abbiamo un po' di skin Marvel, come potete vedere, ecco qua sono le skin quelle slurp, qua quelle ghiacciate che ho due bundle Più la skin quella di Natale del 2021, se non sbaglio, esatto Poi abbiamo le skin della DC con Aquaman o Aquamerd, alcune skin serie di icone come Cable Ames Le skin del fuoco, le skin serie dei videogiochi Le skin della Marvel, tipo Deadpool, che è una bella skin OG Le skin oscure, queste qua, la Bomberoloscura ragazzi, era una delle mie skin, anzi era la mia skin preferita nel capitolo 1 Abbiamo Darth Maul, skin del Star Wars Abbiamo un po' di skin epiche, qua adesso non sono, anche perché in realtà la verità non c'è più, quindi epiche non è vero Ho detto una castroneria, ho detto Abbiamo un po' di skin interessanti, abbiamo per esempio Bananetto Abbiamo anche questa crew, ragazzi, abbiamo, cioè secondo me ho un bel armadietto Abbiamo ragazzi il mio uccellino, il Cocorit, il mio coso, come si chiamano i Cocorit? Cocorit, una vitarelle come si chiamano? Cocoriti? Cocoribbo, non lo so Abbiamo un po' di skin di Pasqua, abbiamo, ragazzi, queste qua ce le avete voi Vi faccio vedere delle skin ragazzi che non sapete neanche dell'esistenza Cyclo, abbiamo Dante ragazzi, J Dante per gli amici più stretti Una skin veramente pazza, abbiamo Destino che è una delle mie skin preferite Abbiamo questa, Don Torsolone, ragazzi, che è molto rara perché si doveva vincere con un torneo nel capitolo 2, stagione 3 Per la cosa con la Apple che era successa Molto bella, ce l'avete voi, ragazzi, scrittelo nei commenti Abbiamo parecchie e parecchie skin, abbiamo Fabio Poltachioma, ragazzi, una skin pazzesca Veramente tante skin e vi voglio far vedere le skin più rare, diciamo Quelle un po' più strane da sbloccare, tipo Frostbite, non so se ce l'avete, ragazzi, se non sbaglio Io questo qua ce l'ho, quello che si prendeva nel capitolo 1 con il CD Io ce l'ho proprio la custodia del disco, ragazzi, che poi il disco non c'era dentro il disco Però vabbè, abbiamo la roccia, la rocca, ragazzi, sempre con noi Abbiamo, ecco, questa qua è una delle mie skin più rare, per dirvi Io non è che abbia troppo skin rare Abbiamo questa qua della World Cup che non esce dal 2019, ragazzi Fatevi sempre se avete qualche skin di questa Abbiamo anche Gendarme, skin segretta del season 5, capitolo 1 Abbiamo parecchie skin, sinceramente, ragazzi Oh, un calabrese Abbiamo la campionessa, questa qui non esce dalla season 6 del capitolo 2 Molto bella, ragazzi Questa è veramente bella Non so perché, ma mi piace un botto con sto colore Abbiamo le skin di salvo al mondo Abbiamo, ragazzi, una skin iconica Abbiamo parecchie, parecchie, parecchie skin Alcune, anzi, tutte scioppate ovviamente da me Alcune regalate anche da alcuni di voi Quindi, ragazzi, vi ringrazio per tutti i regali che mi fate E poi andremo a vedere anche piccone cose Abbiamo la Ghoul Trooper Abbiamo, ragazzi, guarda qua Il trio Mida normale Tutto fullato, eh, con tutto full Mida estivo e Mida ombra Tre delle mie skin preferite Abbiamo la Ghoul Ragazzi, no, la Ghoul non ce l'ho Viola, purtroppo non c'è rosa Lì com'era Non ce l'ho Abbiamo l'elfo Abbiamo... Guarda che skin... No, guarda che c'ho Guarda che c'ho, ragazzi Peter Griffin Muli dall'icona delle skin Alcune ve le faccio vedere più nel dettaglio Dopo andiamo nel dettaglio Sulle mie skin preferite Abbiamo Johnny Lama, ragazzi Tanta roba Abbiamo... Questa qui Guarda che bella questa, ragazzi Il Trog Molto, molto bella E diciamo che scorrendo veloci Abbiamo finito la mia skin preferita Che uso durante il torneo Abbiamo finito le skin, diciamo così, al volo, ok? Adesso andiamo a vedere le mie skin preferite, ragazzi E sono ben 67, ragazzi Mica male, comunque 67 skin preferite Ve le faccio vedere un po' più nei dettagli Rubino ombra Queste skin estive Queste qua Cioè, stive, sì Invernali Ve l'ho già fatta idea Abbiamo... Starfire Abbiamo... Poi Neymar Neymar, ragazzi Grande skin, eh Queste qua ve lo fate vedere anche prima Abbiamo questa, ragazzi La gente ribelle Che era il primo starter pack della season 3 Comunque, per chi non lo sapesse Io, ragazzi, gioco a Fortnite Dalla season 1 del capitolo 1 Solo che io, purtroppo Stupido che sono Io non shoppavo i season 1 Non sapevo neanche come si mettessero i soldi Season 2 non shoppavo, ragazzi Avrò avuto 8 anni Non so quanti anni avevo In season 3 Ho shoppato Perché sto bandolo L'ho shoppato in season 3 Però non ho shoppato il pass battaglia Perché non sapevo dell'esistenza del pass battaglia, ragazzi Purtroppo ero molto stupido Abbiamo alla deriva Tutto fullato Ma quant'è bella sta skin Queste skin, ragazzi Sono le mie preferite Veramente belle L'artigliere del brutto Io le skin preferite le metto Sia per bellezza Sia per ricordi che ho Molte ho dei ricordi Che non vi dirò Perché non ve li voglio dire Abbiamo aura fresca Abbiamo questa, ragazzi Billumano Questa qua la usavo sempre Durante... Quando giocavo in live La modalità impostore Ve la ricordate ai tempi? Chi c'era Che mi seguiva, ragazzi Aspettelo nei commenti Bomberalo lucente Questa skin estiva Abbiamo questa Che è molto bella Siamo nel capitolo 1 Abbiamo Calamidi Abbiamo il Cavaliere Ultimo Abbiamo appunto Il mio uccellino Questo qui Abbiamo il Crackshot Grande skin Abbiamo Cromo Questa, ragazzi È bellissima Ce l'ho dal capitolo 1 È molto bella Destino, appunto Una delle mie preferite E dopo vi dirò anche Che è la mia skin preferita In assoluto Abbiamo Glitch Skin molto bella Appunto quella della World Cup Che vi ho fatto vedere prima Abbiamo la Renegade Pandenzenzio Abbiamo questa skin Che mi... Non so Questo stile Mi fa impazzire Non so perché Abbiamo l'intruso Elite Questo qua La usavo sempre Nel fine season Quando c'è il fine season Non so perché La usavo sempre Appunto la campionessa Ragazzi È una delle mie skin preferite Tra l'altro Queste sono tutte Mi preferite Quindi io ve lo dico L'Inter Squadrona Rosa La sto usando veramente tanto Non la usavo mai Abbiamo anche i Lynx Ragazzi I Tremida La Ghoul E questo qua Ve lo fate già vedere Abbiamo la calciatrice Ragazzi Con la media dell'Egitto E il numero caron set Sulle spalle Per il mio Choya Che non c'è più Non è vero C'è ancora Il Cactus Abbiamo Ramingo ragazzi Guarda che bello Ramingo ragazzi Così Ma che bello Tutto fluo È un folle Questa la uso sempre Durante i live Di fine stagione Tipo durante la maratona La uso sempre Non so bene il perché Poi abbiamo appunto Il Gigi Yonder Questa ragazzi È la skin Con cui ho fatto La mia prima Primissima Vittoria reale E voi direte Ma è della stagione 5 Del capitolo 1 Sì ragazzi Io nelle prime 4 stagioni Non riuscivo a vincere Ero molto Molto scarsa Abbiamo la nuova skin Della FNCS Che è molto bella Abbiamo Gilberto Ragazzi Nei commenti Scrivete Gilberto Il re del mondo Abbiamo Moskul Abbiamo Questa qua Non mi ricordo come si chiama La festa E poi abbiamo Zenit Ragazzi Queste sono le mie skin Preferite Ma la mia skin Preferite In assoluto Qual è? Probabilmente Mida E se devo scegliere Uno tra i tre Direi forse Mida Ombra Forse Direi Per estetica E per tutto Se dovessi dirne Invece solo una Per affetto Per ricordi Forse direi Destino Forse Non lo so ragazzi Tra queste qua ragazzi Avete qualche skin tra queste? Qual è la vostra preferita tra queste skin ragazzi? Qual è la skin Vostra preferita Tra le mie skin preferite? Fatelo sapere Di backpack ragazzi No Una sfilza Cioè abbiamo il pagorino Di cicce gamer Dandana nave Abbiamo le ali ghiacciate Ragazzi No talmente tanti Non ve li farò vedere tutti Ve li faccio vedere solo alcuni Tipo questo qua era molto raro Si sbloccava nel capitolo 1 Abbiamo le ali oscure Abbiamo tanti i backpack Che in realtà io purtroppo Non li uso mai i backpack Abbiamo questo qua del 2022 Cioè Nel capitolo 1 Usavo sempre backpack Ma anche quelli enormi Poi ho smesso di Di usarli Non so belli perché Perché in realtà ne ho molti belli Abbiamo questo qua ragazzi Il cristallo Rosso Purtroppo non ho quello bianco Perché ero un po' stupidi nei tempi Ma molto bello Abbiamo il squad di Dante Ragazzi Tanta 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 roba Abbiamo bei backpack Sinceramente Abbiamo Pesciolino Rocks Questo qua Abbiamo tanta tanta roba Ragazzi Secondo me Bei backpack Questo qua ragazzi È il più raro che ho Non so se qualcuno di voi ce l'ha Fatelo sapere in commenti Il secchio di rudine Si sbloccava gratuitamente A zero v-back Nello shop Nella situazione del capitolo 1 È un bel balletto C'è un bel balletto Un bel piccone Sì vabbè ragazzi Non so più vorrei Un bel Bello zaino Anche i picconi Ve li scorro così velocemente Mi soffermerò poi sui miei preferiti Andando nella sezione appunto Dei preferiti Ragazzi Poi ragazzi Mi raccomando nei commenti Iscrivetevi qual è la vostra skin preferita Il vostro zaino preferito Il vostro piccone preferito Il vostro tenta plano Il vostro balletto preferito Iscrivetevi tutto Io vi leggo molto molto volentieri I picconi miei preferiti Sono questi ragazzi Uso sempre questo Il bastone Da quando l'ho sbloccato Di Harley Quinn E questo Questo l'uso da Bo Dicembre fino a Marzo E questo l'uso per tutto l'anno Il resto dell'anno ragazzi Ormai È così da due annetti Ragazzi Mi soffermerò solamente Su quelli I miei preferiti Che in particolare modo Sono i Pargaduti qua Come si chiamano I ombrellini Questo è il mio preferito Ragazzi Molto bello Questo Insieme a questo Perché questo qua ragazzi È molto raro Non so se qualcuno di voi ce l'ha Perché questo qua si sbloccava Nel capitolo 2 Da stagione 5 Quella del Mandaloriano È In una modalità particolare Di Star Wars Che c'era Ma non me la ricordo neanche Come era la modalità Ma era difficile da sbloccare Me lo ricordo Ne ho molti Ne ho molti Ho questi ali qua Belle Colose Ho questo qua Regà bello Questo Che fa la canzoncina Molto bello Un po' di ombrellini Appunto Il mio primo ombrellino Purtroppo è stato questo qua Della stagione 5 Le motte Ragazzi Ne ho 991 In tutto Non ve le farò vedere Vi farò vedere delle motte Tra i miei preferiti Ovvero C'ho il Gritty C'ho Ulle Questo qua è bellissimo Non so come si chiama La canzone Però vabbè To see slide Qua non mi ricordo Di chi era Di tre biscotti Se non sbaglio Andiamo Sione popolare Questa ragazzina Ito Il balletto di Ninja Ho un po' di balletti Interessanti Delle serie di icone Che mi piacciono Purtroppo io In live Quelli non li posso usare Lo che mi danno in copyright Però Tipo il mio preferito Ragazzi Dov'è che è Aspetta Il mio balletto preferito È questo Unjustice Che vabbè ragazzi È anche il più raro Che ho tra tutti Questa stagione tre Ho un po' di robette carine Cioè ho questo qua Che è raro Se non sbaglio Non so da quanto non esce Ho il balletto Della vittoria Delle corone Che questo qua Penso che ce l'abbiate Tutti quanti Ho un po' di balletti Ho un po' di balletti Alle palle da basket Ragazzi Andate a vedere I video dell'europeo Molto belli Belle belle cose Sinceramente Lo spread Il sushi Ragazzi Sushi Ragazzi Sushi Pizza Scrivete nei commenti Tanti bei balletti Ragazzi Voi che voto date Al mio armadietto Ragazzi Ovviamente le skin Adesso vi riconto Quante sono Sono 426 Scrivete nei commenti Quante skin avete in totale Fatemi sapere Che voto date A questo armadietto Non so quanto Spesa ragazzi Ma ho speso Veramente tanto Nel corso degli anni Sono passati ormai Tanti tanti anni Da quando shoppo Almeno 5 sono passati Di anni Da quando shoppo Se non Anzi anche 6 anni Da quando ho iniziato a shoppare E veramente Tanti soldi Ho speso Molti 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 Ma molti molti soldi Però boh Quanto costa Il vostro armadietto Ragazzi Scrivete nei commenti Che voto date Al mio armadietto Di fornit E ve lo ripeto Non ho troppe cose rare Anzi Una cosa ve la devo far vedere Però Non ho troppe cose rare Ho qualcosina Di interessante Di raro In generale Però niente di troppo Ho questo qua ragazzi Controller Questo qua ragazzi Io mi vantavo Perché ninja non ce l'aveva Però io si Per un periodo Non so se adesso ce l'ha Però io ce l'avevo E ninja no E nero fiero E vabbè ragazzi Fatemi sapere Se vi è piaciuto come video Perché non l'ho portato Da molto tempo Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Tivetevi al canale Condividete il video Con i nostri amici Commentate con Tutto quello che vi ho visto Durante il video Noi ci vediamo Nel prossimo video Bella E godetevi questo video Che il prossimo video Sulla armata Ragazzi Sarà tra circa Un annetto e mezzo Se non due e mezzo Un annetto e mezzo